Sindaco, alcuni giorni fa in Prefettura un tavolo convocato da Sua Eccellenza il Prefetto in cui avete parlato, e rappresenti tu, rappresenti il Sindaco di Portembedocle e i sindacati, avete parlato della riconversione dell'ex area Italcementi. E' uscito fuori che nell'area Italcementi, ma in territorio dell'agrigento, dovrebbe nascere un imbianto di biogasso. Io ho già intervistato, o meglio, noi abbiamo intervistato Danilo Verluso, il Sindaco di Portembedocle, lì ho sentito Alfonso Buscemi della CGL, tu invece mi hai detto, io gradirei leggermi le carte prima. Ed effettivamente la cosa che io ho subito rilevato dalle due interviste è che nessuno dei due sapeva di che cosa si trattava. Ti sei letto le carte e quindi questo imbianto di biogas, che riguarda l'area Italcementi, ma insiste sul territorio dell'agrigento, di cosa si tratta? La proposta che è venuta fuori in quel tavolo era sostanzialmente di questo tenore. Da una parte un proponente per un'attività da farsi nella cava ex cava Zuppardo, se non ricordo male, proprio credo che sia quella parte lì, dove nel tempo Italcementi ha estratto materiale per l'attività di produzione, utilizzandolo come materia prima, e evidentemente si è determinato una sorta di sdentamento di quello che era una montagna che aveva un suo andamento naturale. E quello è il territorio di Port Empedocle? E quello è il territorio di Port Empedocle, cioè contiguo con agrigento in ogni caso, siamo proprio a limitare, credo che forse una porzione della cava probabilmente potrebbe anche rientrare in territorio di agrigento, questo andrebbe visto meglio. Però quella proposta prevederebbe un'attività di rinaturalizzazione del sito, facendola come? Creando una discarica di inerti. Poi di questo progetto il Comune di Agrigento non ha conoscenza, non ha elementi, è una vicenda di cui si parla anche da tempo, bisognerebbe comprendere bene, meglio, suggerisco a quanti saranno chiamati a esprimersi al riguardo, verificare il tipo di rifiuto che può andare in quella discarica, soprattutto fare anche un piano di considerazione direi generale di tipo ambientale, cioè la verifica di quelli che sono i carichi di traffico di mezzi pesanti con relativo trasporto, avendo cura di considerare qual è la condizione in questo momento della nostra viabilità. E questo vale pure per l'inviando di biogas. Vale anche per quello, cioè in generale c'è un tema sicuramente di viabilità. Ora qualcuno mi potrà dire, però non è che siccome non c'è la viabilità, ne facciamo in modo che lo sviluppo della nostra area ne subisca delle conseguenze, direi anche sensata, però io penserei qui ad un esame più complessivo di tutta la vicenda Italcementi, al di là dell'impianto di biodigestione, sul quale poi magari ci tratteniamo e parliamo. Cioè un tema molto più generale. Lì c'è un'area che fu acquistata dall'Italcementi proprio per l'insediamento di quell'impianto, fu acquistata ad prezzi anche molto calmerati, se non addirittura pressoché simbolici, per realizzare un impianto di produzione che ha certamente dato tanto pane a molta gente che ci ha lavorato, ha creato un indotto, importante e anche significativo per la nostra provincia. Poi l'impianto ha dovuto chiudere, sostanzialmente spegnere il forno. Quando dico chiudere so bene che c'è un impianto ancora di macinazione che impegna poche unità, ma complessivamente la chiusura del forno ha significato, cioè adeguarsi a quella che è la linea di domanda del mercato del cemento nazionale. Quindi una riprogrammazione complessiva dei siti. Oggi cosa succede? Al netto del centro di macinazione che sta funzionando, io credo che l'esigenza che debba avere la comunità allargata, non solo il comune ospitante, ma i comuni agrigento senz'altro tra questi, ragionare sul destino che facciamo di alcuni siti, per evitare di ripetere errori che nel passato già sono stati fatti. Il caso della porta Empedocle rivierasca, dove si è consentito di realizzare, per esempio l'impianto, parlo di una vicenda che conosco bene perché mi sono anche battuto per la riconversione della centrale termoelettrica, mi sono combattuto per la riconversione a gas e la facemmo inserire tra le misure compensative allora di Enel. Però quell'impianto dove sorge? Sorge sulla battiglia, cioè si è tolta una spiaggia, un'area che un tempo era utilizzata per un'attività, era una balera sulla spiaggia. Mio nonno, nitido il ricordo, prima che andasse via mi faceva vedere le foto e me lo raccontava, lì andavano a ballare, dopo di che si andava a fare il bagno. Lo hanno tolto e poi a seguire abbiamo fatto di più, chi ha potuto ha fatto un modus diciamo di schizofrenico utilizzo del litorale, ci hanno costruito delle case popolari a seguire e poi e poi è iniziato finalmente, inizia la parte balneare. Così, dita il cemento e cosa ne facciamo? Atteso che non mi pare, e credo che lo abbiano confermato, i vertici venuti in quel tavolo, quel forno non si accende più, non solo perché non ci sono le condizioni di domanda, ma non si accende più perché già questo stesso forno è fuori da quelli che sono gli aspetti oramai di compatibilità tecnico ambientale con le nuove procedure. Per cui di questi camini che sono alti, quanto sono alti, che ne facciamo? Di questi capannoni, di che cosa se ne fa? Invece la proposta che è venuta fuori è, fuori dall'area dell'impianto, cioè fuori dal cimitero industriale, cosa facciamo? Fuori dal cimitero industriale allochiamo una discarica di inerti, per carità si può fare, ma che darà posti di lavoro a un paio di persone, e poi facciamo l'impianto di biogassi in un'area naturalizzata, certamente sarà a destinazione, come qualcuno ha detto, industriale, lo vedremo se è così, ma in un'area che non è quella dello stabilimento, cioè non si va nei capannoni, in un'area viene l'impianto di biodigestione. Allora io suggerirei, l'ho fatto, non mi sottraggo su questo, di fare con i talcementi un ragionamento d'insieme, per cui riconversione del sito, ritieni di doverla fare, è un tema che ancora appassiona, avendo cura del fatto che oggi la proprietà di talcementi è un'altra rispetto a quella di qualche anno fa, è una proprietà che non è neppure italiana. Questo impianto lo riconverti? Recuperiamo queste passività ambientali a beneficio del territorio? Oppure un territorio che sta andando verso una linea di attrazione turistica deve continuare a avere quei cammini lì e deve avere una zona industriale che rimane quella che è? Io mi permetto di dire che quella che fu per 40 anni il dibattito che attraversò l'intera provincia, del cimitero industriale della Montaison, che ne facciamo? Io penso di poter dire di avere scritto una pagina in questo senso significativo, lo dico senza spocchia ma con il massimo dell'umiltà. Permetti il sindaco, questa è una cosa che riguarda... RIGUARDA 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 RIGUARDA